Stefano De Luca da qualche anno gestisce una community dedicata alla filosofia che conta più di 800 iscritti, Stefano ha condotto più di un tanti incontri e ci condividerà la sua esperienza, ci darà i suoi preziosi consigli su cosa ci azzecca community management e public speaking e come lui ha superato un po' il blocco della parola appunto gestendo la sua community e quindi ci racconterà la sua esperienza. Puoi tranquillamente mettere le tue slide, io praticamente scompaio e lascio a te completamente il parco. In un bocca al lupo, ti aspetta un secondo un attimo perché chiaramente adesso ti fanno gli applausi, questo è il nostro pubblico che non è quello nostro, ma è un po' più benissimo. No, 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 fan piacere assolutamente, sono più da sala. Allora, ciao a tutti, ringrazio gli organizzatori di avermi invitato e di aver accettato la mia proposta. Mi chiamo Stefano De Luca, mi occupo fondamentalmente di produzione discografica nell'ambito della musica classica e di formazione filosofica da qualche tempo. Sono qui nella veste di community manager del gruppo Meetup Filosofia Milano e vi parlerò anche di come dalla community Meetup Filosofia ho aperto poi un'attività parallela di formazione filosofica per aziende. Il mio intervento, questi 20 minuti che ho a disposizione, avrei deciso di dividerli in due parti. Nella prima parte vi racconterò dell'esperienza del mio gruppo e della conseguente attività di formazione filosofica che è nata attraverso l'esperienza del gruppo, i contatti e le conoscenze che ho avuto. Nella seconda parte invece svilupperò più il tema vero e proprio dell'incontro che quello che dà il titolo. Come ho superato il blocco della parola attraverso l'apertura, la gestione e l'organizzazione del Meetup, del gruppo di filosofia. Quindi partiamo con la prima parte. Vi presento il gruppo, come è nato, come è strutturato, i partecipanti, i canali che utilizziamo per farci conoscere, i luoghi dove ci troviamo normalmente e lo sviluppo che ha avuto appunto poi per un'attività parallela, spero, in espansione. Dunque il gruppo nasce nel 2016. Io sono laureato in filosofia, però poi mi sono occupato d'altro nella vita, soprattutto di musica, musica classica. Il gruppo nasce nel 2016, così dopo un periodo di crisi nel quale mi è tornata voglia, mi è venuta voglia di riscoprire i motivi per i quali avevo scelto di studiare filosofia. Quindi sono ritornato un po' alle radici di questa passione, passione che come vedremo ha anche permesso di superare alcuni problemi anche abbastanza importanti che avevo nella gestione della comunicazione, della parola, della timidezza, eccetera, eccetera. Il gruppo nasce nel 2016 su Meetup, quindi ho iniziato a utilizzare il canale Meetup nel 2016 e si è subito avuto una buona partecipazione. Siamo arrivati adesso ad avere più di 800 iscritti. I nostri primi incontri avevano circa 10-20 persone come partecipanti, siamo arrivati ad averne 70-80 per volta negli ultimi incontri live che abbiamo fatto a Magazzino Musica, all'Università, al Politecnico e in varie libererie milanesi. Gli incontri che teniamo si svolgono ogni 3-4 settimane. I partecipanti, appunto, vi dicevo, passano dai 20 ai 50-70 anche. Nel momento, in questa primavera di chiusura del Covid, i nostri primi incontri online hanno avuto anche 70-80 partecipanti in contemporanea. Il gruppo comunica fondamentalmente attraverso Meetup. Abbiamo provato a usare anche altre piattaforme, Eventbrite, eccetera, eccetera, ma alla fine abbiamo visto che Meetup, il passaparola, eccetera, insomma, ho visto che sono i canali che funzionano di più. Le comunicazioni tra di noi si fanno su Meetup, via email, via Whatsapp. L'intento del gruppo era quello di condividere, prima di tutto, la mia passione. Perché ogni passione, come vedremo in... ... ... ... ... Quello che vorrei dare, come consiglio, che passione... ... ... ... ... ... ... ... ... ... è necessaria la di questo meetup è diventato anche una un'attività professionale i temi che abbiamo iniziato a che ho iniziato a trattare nel nei nostri incontri sono partiti in maniera all'inizio erano temi molto semplici cioè come la filosofia può servire nella vita quotidiana quindi nel nostro rapporto con gli altri con noi stessi col futuro la conoscenza di sé eccetera eccetera piano piano i contenuti si sono evoluti sono diventati un po più specifici abbiamo iniziato un approccio fenomenologico quindi utilizzando la tecnica fenomenologica di ussr per in qualche modo arrivare a a una ricerca una definizione dell'essenza dell'essenza delle cose l'essenza delle cose concetti cose reali cose concrete attraverso questa tecnica che si chiama appunto tecnica fenomenologica si divide in tre parti adesso chiaramente non c'è il tempo neanche per accennarla abbiamo fatto incontri di filosofia e musica in parallelo al programma alla stagione del teatro alla scala in magazzino musica per ogni prima per ogni prima di ogni opera facevamo un incontro su filosofia e musica dedicato alla singola opera stiamo passando ultimamente a fare incontri più diciamo specializzati più mirati ad esempio sulla logica sulla teoria della della conoscenza teoria della definizione teoria della dimostrazione queste cose ci hanno permesso di farci conoscere di applicare tecniche modalità punti di vista filosofici anche all'azienda l'impresa ci hanno chiamato per fare attività di formazione ci hanno contattato abbiamo partecipato alla stesura di due libri sull'impresa uno si chiama abbreviario sul pensiero strategico in cui abbiamo cercato di attraverso il metodo fenomenologico estrarre l'essenza della strategia e dall'altra parte è un altro libro sui marchi leggendari su che cosa su cos'è la saggezza e la sapienza in azienda e abbiamo iniziato a lavorare anche all'estero ci hanno chiamato in belgio due volte in un istituto psichiatrico per gestire una una formazione in francese al loro personale dai medici al personale amministrativo diciamo è un'attività che mi sta affiancando da qualche anno ci sta dando soddisfazioni quindi e quindi niente adesso vedremo come andrà avanti passiamo velocemente quello del blocco della parola vi anticipo una conclusione alla alla quale volevo arrivare sono convinto che per superare i problemi quali essi siano dal blocco della parola balbuzzi terrore paura di parlare in pubblico non siano sufficienti tecniche che sono sicuramente necessari importanti però ogni qualsiasi cosa che è solo tecnica che è meramente tecnica sempre qualcosa di artificiale e che spesso si rivolge solo a noi stessi c'è la nostra singolarità posso vincere la mia timidezza o la mia difficoltà a parlare semplicemente allenandomi da solo al massimo con un amico io sono convinto che non che sia necessario perlomeno questa è la mia esperienza che penso che possa essere interessata anche per altri quindi non è sufficiente mettersi a fare esercizi ma è necessario cambiare prospettiva quindi provare a mettersi in una prospettiva che gli stoici chiamavano lo sguardo dall'alto cioè uscire un attimo dalla nostra individualità non pensare di essere soli non vedersi anche i propri obiettivi personali cercare di metterli in prospettiva cosa vuol dire in prospettiva? vederci all'interno di una comunità, di un gruppo ma quale comunità? la comunità può essere la mia famiglia, la mia città, i miei amici eccetera eccetera ecco la scelta della comunità nella quale mettersi in gioco dipende a mio parere dalla passione è la passione il seguire la propria passione, i propri interessi ci mette necessariamente ci costringe necessariamente a entrare in una forma di gruppo, di comunicazione in una comunità una comunità che all'inizio può essere puramente virtuale gli appassionati di hi-fi seppur timidi, seppur impacciati possono tranquillamente scrivere su un gruppo senza bisogno di dover parlare ma se questa passione viene perseguita in maniera costante alimentata eccetera eccetera è necessario in qualche modo mettersi in gioco e comunicare qualsiasi tipo di comunità pensiamo alla comunità scientifica nessuno scienziato è solo nessuno scienziato può essere solo anche gli scienziati del 1500 si scambiavano continuamente lettere facevano parte di una comunità, di un gruppo pensiamo allo sport pensiamo alla politica io fin da quando ero piccolo ho avuto problemi a parlare alcune parole non uscivano e negli anni ho imparato una serie di tecniche ho imparato da solo una serie di tecniche in base sapevo che alcune parole non mi uscivano alcune combinazioni di consonanti in particolare e ho dovuto imparare da solo attraverso l'esperienza delle tecniche usando dei sinonimi al posto di una parola oppure iniziando le frasi magari con una vocale per poter poi iniziare con una consonante e poter finire quindi la frase senza problemi la parola senza problemi mi sono accorto leggendo che molte persone anche famose hanno avuto problemi simili ai miei ho letto interviste a Bruce Willis con problemi di questo adesso abbiamo il caso di Joe Biden è diventato presidente eletto americano che racconta in varie interviste i suoi problemi nel gestire la parola quando ho letto che veniva chiamato nella sua classe al liceo la sua classe di latino Joe impedimenta e che cosa ha scelto di fare Joe Biden ma anche Bruce Willis hanno scelto di seguire la loro passione da una parte la passione per la recitazione dall'altra la passione per la politica se tu sei appassionato di politica devi per forza partecipare a una comunità devi entrare in una comunità nella comunità delle comunità più importanti più grandi come quella americana la politica americana entrare al senato americano per 40 anni tutte le tecniche che vuoi puoi imparare ma il punto fondamentale è che se ti senti parte di una comunità se non ti vedi più come singolo i tuoi problemi di comunicazione personali hanno raggiungono tutta un'altra 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 prospettiva un altro punto di vista quello che interessa nella comunicazione a mio parere se cambi prospettiva non è tanto il fatto vederti come timido vederti come bloccato vederti come ma è vedere che cosa che cosa vederti non più come singolo ma come gruppo e quindi come comunico con il gruppo come è possibile fare cambiare questo gruppo cambiare questa comunità come è possibile cambiare la politica americana come è possibile cambiare in qualche modo fare in modo che dare un'idea nuova al cinema oppure come è possibile come Giorgio VI non so se avete visto il film Il discorso del re anche lui di fronte a sé non era più un singolo aveva di fronte un'intera nazione e per di più nel momento più difficile uno dei momenti più difficili della sua storia agli albori di una guerra mondiale i problemi di comunicazione del singolo non sono nulla cos'è che ha spinto Giorgio re Giorgio Joe Biden a risolvere i suoi problemi il poter il trascendere la propria dimensione singola e vedersi all'interno di una comunità certo più la comunità è importante uno stato un film con dei budget multimiliardari multimilionari adesso chiaramente chiaramente spinge a un impegno per il superamento delle proprie problematiche personali comunicative è diverso rispetto magari alla gestione di un piccolo gruppo ma anche un piccolo gruppo secondo me può dare lo stimolo lo stimolo giusto per appunto trascendere la la propria dimensione singola dunque il tempo mi sembra che sia praticamente terminato se qualcuno ha delle domande o qualche curiosità da chiedermi per Stefano senza nessun problema grazie Stefano del tuo speech mi dispiace che non vedi il pubblico nell'invisibilio ma c'è se ce l'abbiamo un po' di disibilio qui ho visto che ci sono un po' di persone è un po' difficile senza vedere sono abituato appunto con zoom eccetera a vedere un attimo le persone se si stanno annoiando se fanno altri eccetera infatti è un po' la difficoltà che questo strumento non è possibile fare diversamente grazie mille Stefano del tuo intervento grazie tante se avete delle domande per Stefano ora o mai più grazie a voi poi dopo dovremo chiudere la sessione per chi è qua quindi attesa che faccia le domande la prossima sessione ci sarà Stefano Ottaviani con un evento sull'inclusione in centro Sansone con tre errori da non commettere tra poco su queste decisioni che troverete comunque chiudo solo con una cosa se volete contattarmi scrivermi se siete interessati potete scrivere tranquillamente su google meetup filosofia milano è semplicissimo spesso anche con filosofia milano siamo tra le tra le prime tra le prime tra i primi risultati su google quindi potete scrivermi Stefano stella richiede che ha più grande soddisfazione nella tua community che hai vissuto la mia più grande soddisfazione è stata sì la mia più grande soddisfazione sono state due la prima è stata il poter coinvolgere gente di estrazione formazione diversa perché non ho nessuna appunto i nostri incontri sono aperti a tutti quindi vedere discutere parlare confrontarsi tra loro professori universitari medici con magari ragazzini che studiano ancora filosofia al liceo e sono venuti da me e da noi anche solo per prepararsi a un esame o anche studenti universitari ma anche gente che viene fuori Europa fuori dall'Italia abbiamo avuto ingegneri che venivano dall'Iran quindi questa è stata una grande soddisfazione vedere questo scambio l'altra grande soddisfazione è stata essere chiamati ad esempio in Belgio per poter fare queste giornate di formazione mettendo in pratica diciamo la nostra esperienza ed essere pagati per farlo al centro chiedo a differenza di preparazione di età di esperienza ma hai causato problemi tra i partecipanti oppure è stato un punto un po' di forza della community per alcuni incontri difficili è stato un problema perché il linguaggio filosofico magari certe parole che uno usa normalmente in un modo nella filosofia magari sono usate in maniera un po' più specifica e quindi però non c'è stato nessun problema perché il clima è molto rilassato quindi ci si ferma tutti e si spiega e si chiarisce insomma quindi diciamo che i problemi che sono stati si risolvono abbastanza facilmente ne ero convinto all'inizio adesso non sono più così convinto senza che ci siano risposte semplici filosofiche cioè per me la filosofia non è l'aforisma cioè capisci se non c'è se non c'è un po' di lavoro no non c'è futuro cioè se uno vuole risposte immediate così no perfetto